La nostra azienda, Top Safety System, ha lo scopo di tutelare la sicurezza in campo lavorativo e privato. L'obiettivo è quello di progettare e realizzare prodotti tecnici che permettono la riduzione delle infortuni e dei incidenti. Il prodotto che stiamo lanciando sul mercato è Smart Security Box, un dispositivo in grado di rilevare situazioni ambientali sfavorevoli e pericolose, quali CO, metano e alta temperatura. Inoltre, si interfaccia con dispositivi di protezione individuale, come ad esempio i guanti da lavoro. Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese e anche i nuclei familiari. Puoi contattarci sul nostro sito topsetysystem.alpervista.org o su Facebook. Da oggi la sicurezza è... A scatola chiusa!